e ok quindi abbiamo da far fuori questi qui davanti a noi come possiamo organizzarci vediamo possiamo provare questi ho preso i cavalieri no davanti e ci mettiamo anche questi e facciamo un gruppo perfetto prendiamo questi e li teniamo su quest'altro fianco gli arcieri li teniamo tutti dietro allargati ok a questo punto questi li mettiamo qua insieme anzi li mettiamo qui in mezzo tanto per fare il blocco li inserisco a questi poi prendiamo la cavalleria e la teniamo qua su quindi questi sono gli arcieri un po' più compatti eccoli qua ci mettiamo questi come scorta e iniziamo il nemico ha fatto arrivare altri uomini vengono alla nostra destra quindi avanziamo ok avanzino anche gli arcieri perfetto questi li spostiamo per di qua questi per così ok la galleria può stare la ferma facciamo un attimo così sì sì però non devono correre grazie questi me li tengono in posizione stop 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 fermi free qui no kno arcierno questi si hanno caricato senza che lo dicessi perfetto questi sono lanceri problema da girare e con questi che bersagliamo qui dovrei avere questi l'hanno intercettato e infatti indietreggiare indietreggiare prendiamo alle spalle a qui avevo l'altro valiere mi va a caricare questi abbattete questi questi stanno resistendo questi li abbiamo mandati a casa andiamo ad attaccare questi chiudiamoli i miei amici stanno arrivando si li vedo dalla collina quindi questi li facciamo ripiegare e voilà numerale via 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 ok questi li abbiamo quasi respinti continuiamo a spingermi via questi sono cavaliere avvisante riorganizzarsi toglimi il cavaliere che non mi serve questi li abbiamo sistemati questi li spostiamo per di qua questi sono i equiteschi banali ok questi sono una buona armatura eccoli che arrivano ok ok il capitano è morto e ora i suoi uomini ci temono è il momento di intensificare l'attacco questi li spostiamo per di qua disimpegnarsi rinforzi il capitano quando l'ultimo dov importance carica carica non ti fermi carica carica allora gli arcieri li riorganizziamo qua dietro Questa è la mia cavalleria pesante, bene, sul fianco Queste li sistemiamo La mia cavalleria d'assalto la manteniamo qua sul fianco Faccio ripicare il generale Rompere la formazione e schierarsi qua Ok, no, tutti quanti L'armata nemica è in fuga Inseguili e cacciali via dal campo di battaglia Ok, ci sono gli arcieri No, 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 voi tornate via Sincronizzarsi Ah, li abbiamo sistematico, eh Correre, correre Ok, ci stiamo riorganizzando Passarsi per di qua Muoversi Ok, siamo in posizione Chiudiamo i ranghi Questi però adesso non penso servono Muro di scudi Ah, è rimasto soltanto Due traci Quindi questi li mandiamo dietro nelle retrovie Con questi Proviamo a chiudere qua Eh, abbiamo anche finito gli archi Attacchiamo questi Attacchiamo questi Attacchiamo questi Chiudere la formazione Chiudere la formazione Cavalleria nemica Mi serve un reparto di cavalleria qui sul fianco Veroci La facciamo per questa La sposto per qua Vabbè Ripiegare, ripiegare Uniamone in gruppo E avanziamo No, mi date a questi Rischieriamo Gli arcieri hanno finito tutti i colpi A parte sei di questi Sì Nella posizione Attacchiamoli Attacchiamoli Sì Sì, lo so Li attacchiamo Proviamo a caricarli Questi Eh, qui abbiamo quasi finito le frecce E questi E questi sono in su Corno Perfetto Cargliamoli La difesa sembra certa Continuiamo a spingere La difesa sembra certa Incominciamo a spingere Questi che stanno prendendo Ok Qui i nostri Libanari Catafratti Anzi Hanno fatto ottimo lavoro Carichiamo E cominciamo a Spingerli in avanti Per l'inseguimento Carichiamo dietro Accerchiamoli Accerchiamoli Arriviamo Romper la formazione Lanciarsi all'inseguimento Anzi Ah, questi perché sono messi in modalità Ok Carichiamoli Carichiamoli Questi perché sono in cammattimento Ah, perché sono contusessi Ok, li abbiamo mandati comunque via Ah, presso di qualche perdita, no? Inseguiamolo Inseguitelo, inseguitelo Bene, così Eh, non penso ce la faccia No, troppo distanti Troppo pesanti Formazione allargata Oh, oh, forse l'abbiamo presa Oh Perfetto, questi possono anche tornare a casa Intanto questi hanno finito Continuiamo giusto per vedere gli ultimi Sopravvissuti che se ne vanno Un'altra grande battaglia E con questa ci siamo anche ripresi Palmira Sì, qui hanno offerto una buona resistenza i loro Me ne hanno massacrati Questi li devo riportare in traccia Può bastare 1.5 uccisioni 138 uccisi Gli altri 41 Vediamo Ne abbiamo recuperati 12 per i minites buccellari 7 per i comi da tenses egipti E questo Non è male Ne hanno persi 43 Aia 109 inflitti Per i manubalistari 129 per i Uccellari catafratti 132 per gli equiti sparti 40 per gli equiti scribanari E i comi da tensestracini Ne hanno recuperati 5 Sì E Palmira l'abbiamo presa Perfetto Sono rossi quindi li sterminiamo Ed essa non è diventata blu Resistere è inutile Fine del turno Guadagniamo 16.000 E saliamo a 79.000 Con un totale di 96.000 Mi comedia cresce Stiamo facendo il pozzo A questo punto facciamo Unico media Ordine pubblico 95 Gli mettiamo una taverna dopo Damasco Arabi Hai capito Eccolo qua Spia araba Qui non aveva un assassino No L'ho mandati tutti Per di qua Assassino pronto Allora Qui avrei una spia Sì signore Proviamo a mandarla in tessa Certo potevo mandarci questo 80 Allora innanzitutto Questa la abbassiamo E la mettiamo Ok a 80 Poi mi serve La religione abbiamo 30% Religione cristiana Meno di 10% All'arianesimo Più 20% Al paganesimo Il grande tempio di Belmi Da 10% Al paganesimo Se lo butto giù Se lo butto giù Scendo a 70% Questa volta però facciamo prima la necropoli Arrivano gli arabi Sergiopoli Crescita purtroppo No 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 Non va bene Ma facciamo Questo No 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 no